Sono Federica, ho 24 anni e sono iscritta al secondo anno del Master in International Business Entrepreneurship. Mi chiamo Paolo, ho 31 anni e studio Biotecnologie Avanzate. Mi chiamo Elmira, vengo da Iran, sono 29 anni e studiamo in Electronic Engineering. Mi chiamo Marco, sono iscritto al secondo anno di laurea magistrale in Chimica. Mi chiamo Annalisa, ho 23 anni e frequento il secondo anno di laurea magistrale in Filosofia. Ho deciso di candidarmi al progetto LM Plus perché secondo me rappresenta un fondamentale punto di incontro tra università e lavoro. Offre la possibilità di svolgere due internship retribuite e altamente qualificati con il supporto di un coach aziendale che seguirà per tutto il periodo di stage. La crescita, nel sviluppo professionale, in questo caso mio, e inoltre un supporto speciale da parte dell'università. Participate in LM Plus project, it's a new challenge for me. Sono stato selezionato da Indena, che è una grossa azienda farmaceutica. Il mio progetto avrà inizio da marzo 2018 presso la REST di Milano e consiste nell'automatizzazione di estrazione e analisi di dati non strutturati. Il progetto formativo a cui ho aderito è presso l'azienda IBM. L'azienda dalla quale sono stato selezionato è la BioBasic Europe, un'azienda milanese che ha anche una sede staccata qui a Pavia e che si occupa della valutazione, dell'efficacia e della sicurezza di prodotti termocosmetici, ma è attiva anche in altri settori. Ho accettato da Team Company e Italtel Company i miei progetti sui network di fotonics e di innovazione. Da questa esperienza mi aspetto innanzitutto di riuscire a capire come sono le dinamiche aziendali. Che mi consenta di potenziare le capacità già acquisite durante i miei studi, ma anche di crearne di nuove. And I hope it could help me to achieve my goals.